Ciao a tutti, sono Enrico Maria Corno di Sport Outdoor 24, siamo in Val di Fiemme, l'Alpe di Pampeago per gli SchiTest 2017. In questa occasione siamo proprio davanti alla tenda di Blizzard del gruppo tecnica e Bubi del Castello ci racconta qual è lo sci di punta del brand per l'inverno che sta per cominciare. Vi presento il nuovo modello, il nuovo entrato nella famiglia Blizzard, è l'RS4, è uno sci partnership con Audi, un All Mountain 100% pista, come caratteristiche è un 69 centro come sci, sistema di fissaggio IQ a binario, quindi significa che lo sci in fase di curva lavora in maniera totale su tutto l'arco di curva. Abbiamo stabilito che Audi ci ha messo la faccia e il nome in questo sci, uno sci ad alta tecnologia e di alta qualità come sono le vetture del marchio tedesco, spiegaci per cortesia qual è la ragione per cui è stata integrata la piastra nello sci e cosa ci guadagna lo sci nell'avere l'attacco agganciato con una sola vite. Il nostro sistema IQ in pratica è un sistema di aggancio dell'attacco a binario, viene fissato sullo sci solo con una vite, questo fa in modo che lo sci in fase di curva abbia un'ottima deformazione, quindi uno sci diventa molto performante sulla neve, adatto a un pubblico medio-alto, tutta la costruzione dello sci è legno, titanal e carbonio. In aggiunta sullo sci segue dall'attacco la full suspension, in pratica questa barra fa in modo che lo sci non abbia vibrazioni di ritorno verso l'alto, quindi lo sci diventa molto d'utile. Sì, è partnership perché riprende quello che è un vecchio sci, lo è il nome. In caso di una frega Audi. In pratica è una barra che mantiene la vibrazione dello sci giù a terra. Grazie. Grazie.